Il perché di questo studio è in realtà l'immunonutrizione ha già chiarito con tanta letteratura quello che è il supporto e l'importanza per il paziente oncologico in particolare per i pazienti che sono soggetti a intervento chirurgico in quanto il miglioramento dell'assetto immunitario e ripeto ci sono già tanti studi chiaramente prova una stimolazione un incremento in quello che è il sistema immunitario dei pazienti. I pazienti poi che hanno delle neoplasie del tratto gastrointestinale hanno bisogno di un maggiore supporto in quanto sono soggetti a dei trattamenti chirurgici dove ci sono rischi di fistole di infezione di descenza e quant'altro. Il perché del nostro studio perché andando a guardare in letteratura abbiamo praticamente osservato quello che è ben chiaro cioè quello che è il supporto al sistema immunitario del paziente non c'era molto su quello che era la variazione del sistema immunitario e quindi del microambiente tumorale per cui abbiamo pensato di fare un confronto tra due gruppi di pazienti in un gruppo pre trattato con impact secondo uno schema ben noto in clinica e quindi i sette giorni di trattamento prima dell'intervento e un gruppo di pazienti che invece non erano pre trattati con l'immunonetrezione. Abbiamo prelevato delle biopsie prima del trattamento, abbiamo prelevato le biopsie con l'esame istologico definitivo dopo l'intervento chirurgico e i risultati sono stati estremamente interessanti in quanto appunto abbiamo evidenziato in maniera chiara quella che era la differenza su tutta una serie di molecole e di cellule che erano maggiormente presenti nel gruppo di pazienti che erano stati trattati con l'immunonetrezione e questo ci ha permesso di evidenziare e di mettere soprattutto in relazione gli effetti su alcuni recettori ad esempio in particolare mi posso riferire ai sistemi al PD-1 e al PD-L1 che sono due recettori molto importanti in quanto correlati con l'utilizzo dell'immunoterapia e in realtà sono molto collegati con la presenza di alcune cellule all'interno dell'ambiente quindi dei tessuti di un paziente che riceve questo tipo di trattamento. In particolare PD-1 e PD-L1 aumenta la quota di cellule citotossiche quindi questo in questo primo studio riusciamo a dimostrare che con l'utilizzo dell'immunonetrezione siamo in grado di modificare quello che è l'ambiente cellulare del tumore e quindi chiaramente anche del tessuto ospite. Ovviamente questo è uno studio preliminare su un gruppo di pazienti limitato ma la differenza di risultati è talmente interessante e talmente evidente che ovviamente ci stimola ad andare avanti quindi il passaggio successivo sarà quello di ampliare la base dei pazienti cosa che già stiamo facendo e nello step successivo andare a valutare quelle che sono le modificazioni a livello genico quindi non solo passiamo dal microambiente all'interno del DNA e dell'RNA delle cellule tumorali e delle cellule di tessuto sano di controllo in pazienti che vengono sottoposti a dimonotrizione. Ovviamente il goal finale è quello di potenziare in generale il sistema quindi avere e ottenere oltre alla riduzione quindi ai benefici da un punto di vista clinico per quello che è il punto di vista anche del chirurgo quindi riduzione di complicanze e quant'altro ma soprattutto per quello che è il percorso oncologico successivo del paziente. Nel contesto chirurgico generale in termini di lunghezza di degenza e complicanze postoperatorie i dati sono già molto solidi abbiamo già diverse meta analisi che sono robuste e consistenti nel dimostrare l'enorme vantaggio clinico ma soprattutto economico perché la lunghezza di degenza è un surrogato dei costi sanitari molto importante che l'immunonutrizione può produrre nel contesto clinico e avere un meccanismo chiaro che ti dice perché si verificano dei risultati clinici vantaggiosi semplicemente aggiungendo a proteine e calorie gli immunomodulanti che sono arginina omega 3 nucleotidi in particolare può essere effettivamente quel qualcosa quel balzo in più quella chiave in più che effettivamente a questo punto rende il settore probabilmente il diciamo anche dal punto di vista veramente del nutrizionista clinico ospedaliero e ricercatore il setting il settore più affascinante in questo momento noi abbiamo due setting importanti nutrizioni oncologia e in clinica in generale che è la presa in carico precoce noi abbiamo una ancora una necessità di appropriato management e quindi di studi che dimostrino chiaramente che il riserva al precoce l'intervento nutrizionale precoce con la l'adeguata provisione di calorie e proteine ai pazienti sia vantaggioso sullo medio lungo termine in termini di risultati clinici quindi abbiamo tutta una serie di studi legata appunto allo screening precoce al management e alla costa efficace lo studio è uno studio pilota bicentrico con i colleghi di Padova dello Iov ed è il primo studio con un disegno continuativo in corso di chemioradio sul paziente testa collo e abbiamo disegnato questo studio in cui andiamo a monitorare nel tempo qualità di vita body composition fattori immunologici ma soprattutto il trattamento di immunonutrizione in comparazione a un prodotto con più o meno le stesse calorie le stesse proteine viene effettuato nel corso dell'intero trattamento 7-9 settimane adesso vedremo per qualcosa di continuativo nel tempo come può essere la chemioradio con gli associati effetti collaterali e lo associato infietto infiammatorio costante noi abbiamo optato per una somministrazione continuativa perché crediamo che questa possa essere la chiave per garantire i risultati migliori ma questo solo il nostro studio e gli altri studi che verranno in seguito ovviamente anche da altri ricercatori ce lo potranno dire